Musica Come potrebbe l'Unione Europea contribuire a migliorare la vattualità? Noi ci auguriamo che noi ci accompagni, diciamo sempre, nell'ambito del lavoro e del studio e siamo a conoscenza che già fa molto comune, ad esempio l'Unione Europea, se posso, diciamo molti progetti che non ci operano, non ci lascio mai perché non faremo più. L'Europa Museum, ma che esperienza è stata per te e cosa ti ha lasciato? È stata un'esperienza proprio genio, molto interessante e grazie a questa opportunità abbiamo potuto comprendere l'importanza appunto di far parlare dell'Unione Europea, l'importanza dei rapporti che si ha tra il nostro paese e gli altri paesi e le opportunità anche lavorative che ci sono. È anche l'importanza anche per studiare le lingue straniere che ci aprono con le porte lavorative ma anche universitarie. Salute a Ciacchia Europa! Salute a Ciacchia Europa! Salute a Ciacchia Europa! Salute a Ciacchia Europa!